Sembrava sì, parliamo del secondo tempo, però io non sottovaluterei, anzi faccio i complimenti ai miei per come hanno interpretato anche il primo tempo. Nonostante abbiamo avuto in l'anni l'attore principale perché ha messo due pezze in due situazioni che però sono state scaturite da delle ripartenze dove noi siamo stati poco lucidi sotto porta perché la prima credo sia partita quando Di Santo era in area di rigore uno contro uno e scivolato e ovviamente se concede una squadra come Pescara con questa qualità, questa corsa, puoi andare in difficoltà anche per caratteristiche dei nostri. Però tutto sommato il secondo tempo credo che siamo entrati benissimo tant'è che il Pescara mi è sembrato un po' spaisato soprattutto nei primi minuti dove abbiamo avuto la possibilità di pareggiare poi da una rimessa laterale di nuovo schierati abbiamo concesso questo filtrante che ha portato Ferrari sul 2-0. Poi ovviamente per provare a riprenderla perché all'interno di questa squadra c'è l'orgoglio di chi vuole fare il risultato di chi vuole rappresentare a meglio il Siena e concedi la possibilità anche del 3-0. Però tutto sommato credo che la partita dei ragazzi sia stata giocata a viso aperto. Non abbiamo fatto barricate, abbiamo provato anche a trovare soluzioni nuove con una sistemazione diversa rispetto al passato per essere un po' più offensivi e nel complesso devo dire che sono soddisfatto. Del risultato ovviamente no, però era anche la prima partita che approcciavamo in questa maniera contro una squadra, ribadisco, come ho detto anche prima della gara che secondo me ha potenzialità che nei pre-off se la giocherà da protagonista. Mister, come mai questa squadra di Siena intraspetta fa così fatica ad ottenere tali risultati? C'è una spiegazione? Beh, la spiegazione non lo so quale può essere perché altrimenti avrei già provveduto a trovare una soluzione. Il nostro percorso, almeno parlo da quando ci sono io, sono due mesi e una decina di giorni scarsi abbiamo concentrato le nostre conoscenze per individuare quelli che potessero essere i problemi che attanagliavano questa squadra, che veniva da sei sconfitte consecutive. Ora, partendo in due mesi, provando a sistemare prima dando una solidità difensiva dove eravamo riusciti a trovarla poi probabilmente non abbiamo curato molto anche il resto per mancanza di tempo perché abbiamo molti infortunati anche oggi ne avevamo diversi e quindi la continuità ci è mancata nel lavoro perché anche le partite infrasettimanali a distanza di due o tre giorni non ci hanno consentito di concentrarci prettamente su quello che è il collettivo e quindi qualche mancanza ce l'abbiamo però devo dire che loro si sono messi a disposizione poi oggi secondo me è una testimonianza di quanto loro vogliano fare perché secondo me non sono molte le squadre che mettono in difficoltà il Pescaro o non sono state tante, vedi anche la precedente credo che Pescara abbia recriminato molto però io guardo in casa mia e dico che il nostro percorso è partito in salita e dobbiamo cercare di limitare quelli che sono i difetti e provare magari ad essere come oggi. Ecco io se i ragazzi continuassero su questa linea sarei molto soddisfatto perché partite come queste non sempre le perdi soprattutto perché non abbiamo sempre di fronte una squadra così forte e perché noi stiamo prendendo consapevolezza salendo anche di condizioni che rispetto a qualche settimana fa è molto migliorata e questa cosa mi fa ben sperare.